Salve a tutti, un po' di anni fa, penso circa 8, perché mio figlio era già nato, ma mio figlio è nato 9 anni fa, quindi suppongo 8 anni fa circa, un mio conoscente organizzò praticamente una mostra e io dovevo partecipare con qualcosa e pensai a un libro, ovvio, è bello poter dire di aver scritto un libro, ma che ci scrivo sul libro è una cosa molto impegnativa, allora appunto con quell'occasione che si parlava di opere d'arte e siccome ogni tanto mi diletto anche a fare opere tra virgolette di arte, pensai bene di realizzarne una, cioè un libro, opera d'arte, che è questo, il manuale dell'ignorante moderno, ecco qua, questa è la mia risonanza magnetica, fatta nel 2007 forse, dopo aver preso la laticella ho dovuto fare la risonanza magnetica, questo è il risultato, del resto c'era nel dettaglio del dottore che analizzò la risonanza magnetica, c'era pure scritto qualcosa di interessante, però ho perso tutto, l'unica cosa di quella risonanza magnetica è mai rimasta il file jpg che ho messo in questa copertina, adesso è un libro, in realtà ne ho fatti già vari, ne ho fatti più di dieci, una tiratura di dieci libri, è interessante però appunto, e li feci con l'opuscolo, con il libretto di un famoso rivenditore in franchising di mobili economici, ne avevo parecchi messi nella cassetta della posta, da cui poi la descrizione. Il manuale dell'ignorante moderno, questo è un mio pensiero che ho scritto nella quarta copertina, del resto perché? Perché spesso i libri si prendono, si guardano, poi si guardano la quarta copertina e poi via, e magari finiscono lo scaffale lì e nessuno se li fida più per anni, anni, anni se non per decenni. Io ho un pallino fisso sull'ignoranza e qui ho fatto un piccolo pensiero mio che vado a leggere. Il manuale dell'ignorante moderno. L'ignoranza non è la mancanza di titoli di studio, non è analfabetismo. Nei nostri tempi l'ignoranza è l'atteggiamento di chi si crede sazio di sapere ed in quanto presunto sazio preferisce riempirsi la pancia di cibo e le tasche di denaro. L'ignoranza è il rifiuto della conoscenza, l'omicidio della curiosità, l'anoressia del cervello, lo sterminio delle sinapsi. L'ignorante moderno guarda il libro come un oggetto inutile, un volume usurpato ai propri spazi, un peso morto. Per l'ignorante il libro non si apre, lo si giudica dal titolo, al massimo si legge quanto è scritto nel retro. Ed è per questo che il manuale dell'ignorante moderno è il libro ideale per l'ignorante di oggi. Non si apre, c'è scritto fuori quanto basta, pesa, occupa spazio, è inutile, è perfetto. Il suo costo è prima di tutto sociale ed è enorme. Poi c'è un'altra piccola parte dove specifico. Questo libro è stato fatto recuperando materiale pubblicitario inutile che intasa quotidianamente le cassette delle poste. La sua tiratura è casuale e soggetta agli stati di umore e dalle paturnie dell'autore. che l'autore appunto è questo, è questo, è quello che è l'autore. E infatti una tiratura di 10-12 esemplari nel 2010 suppongo, non mi ricordo bene, oggi ho rifatto questa qui che vorrebbe essere la nuova edizione con un nuovo sistema. Le pagine sono incollate, quindi qui diciamo c'è la copertina e la quarta copertina, che poi in realtà non è più la quarta perché mancando la seconda e la terza, visto che non si apre, diventerebbe quasi la seconda, però strutturalmente, canonicamente è la quarta copertina. Ecco qua, il manuale dell'ignorante moderno. Magari, non so, se riuscirò a farne una tiratura potrete trovarlo anche online, in vendita, forse, chissà, magari lo troverete anche su Amazon, tutto è possibile, però è anche tutto improbabile. Arrivederci!